Ce l'ho fatta, l'ho fatto la foto dei miei sogni, speriamo che è venuta bene. Vieni Valeria, vieni, ho finito, sono troppo contento, comunque è uno scenario fantastico. Che dici? Magnifico. Magnifico. Vieni ma. Ma l'espatratura? Allora, io ho fatto la foto, come ha detto, la foto di Piso, di quella che volevo fare ancora prima di venire qui in Irlanda, poi vedremo come ci vediamo. Vediamo dopo eh? Ciao, sto anche da lui. Ora, 22 e 37, sole ancora alto nel cielo, tramonterà a mezzanotte. E' in diretta, qui dall'Islanda. Sempre vivo quando si sta in giro. Adio, mi facevi ammazzato. Ma quanto te ne vengono. Tanto non lo vedrà mai il sole che tramonta perché lui a mezzanotte già dorme. Adio. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Allora, Grazie a tutti. 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 a tutti.